Un anziano e saggio indiano, forse apascio, forse opi, per educare i suoi nipoti racconta una storia. Dentro di me infuria una lotta, è una lotta terribile fra due lupi. Un lupo rappresenta la paura, la rabbia, l'invidia, il dolore, il rimorso, l'avidità, l'arroganza, l'autocommiserazione, il senso di colpa, il rancore, il senso di inferiorità, il mentire, la vanagloria, la rivalità, il senso di superiorità e l'egoismo. L'altro lupo rappresenta la gioia, la pace, l'amore, la speranza, il condividere, la serenità, l'umiltà, la gentilezza e l'amicizia, la compassione, la generosità, la sincerità e la fiducia. La stessa lotta si sta svolgendo dentro di voi e anche dentro ogni altra persona. I nipoti rifletterono su queste parole, poi uno di loro chiese, quale di due vincerà? L'anziano rispose semplicemente, quello che nutri.